Benvenuti su Gossip Mania TV. Fantozzi al Grande Fratello VIP con Alfonso Signorini. Prima di proseguire, se vuoi rimanere aggiornato sulle ultime novità, ti chiediamo gentilmente di iscriverti al canale ed attivare la campanellina. Alfonso Signorini è già al lavoro per la nuova edizione del Grande Fratello VIP, prevista per settembre, e i provini sono in pieno svolgimento. Dejanira Marzano, influencer ed esperta di gossip, ha rivelato che Margherita Zanatta è in lizza per un possibile ritorno nel reality. Facciamo un passo indietro e ripercorriamo gli eventi recenti riguardanti il Grande Fratello. I dirigenti di Cologno Monzese hanno deciso di adottare un approccio meno trash, eliminando le parolacce e puntando su contenuti di qualità. Questo cambiamento è stato osservato con successo durante l'ultima edizione, che ha registrato ascolti sempre più alti. Dejanira Marzano ha condiviso ciò che Margherita Zanatta le ha confidato riguardo a un possibile ritorno, tornerei al Grande Fratello? È una domanda difficile. Rifarei l'esperienza solo se potessi tornare indietro al 2010. Ora non lo farei più, è stata un'esperienza unica e irripetibile nella sua originalità. Ho rifiutato un'offerta di rientrare nel 2011 perché avrebbe perso la sua spontaneità. Ogni edizione diventa sempre meno originale e naturale. Anche se ho fatto degli errori, rifarei quella che ho fatto, perché fa parte del rimanere se stessi. Essere chiusi in casa per tanti mesi è dura, è uno stress psicologico notevole. Un'altra curiosità riguarda Victor, un giovane imitatore della voce di Paolo Villaggio, famoso per il personaggio di Fantozzi. Quadrelli ha espresso il desiderio di partecipare al Grande Fratello VIP per rendere omaggio a Villaggio. Vorrei entrare nella casa per imitare Fantozzi. Sarebbe il primo vero omaggio al genio del cinema italiano, ha dichiarato in un'intervista a RTL 102.5. Il Grande Fratello del futuro è ancora in fase di definizione, con Signorini e il suo team che lavorano sodo per formare il cast della prossima stagione, che partirà in autunno su Canale 5. I provini sono in corso e, oltre a cercare nuovi volti sconosciuti al grande pubblico, la produzione sta considerando di riportare in casa alcuni ex concorrenti che hanno lasciato un segno nella storia del programma. La «Rivoluzione» dell'ultima stagione del Grande Fratello non ha raggiunto i risultati sperati, ma ha comunque garantito la conferma per un'altra edizione. In termini di ascolti, il programma di Signorini ha superato la deludente diciottesima edizione dell'Isola dei Famosi, ma non ha eguagliato il successo estivo di Temptation Island. Per la prossima stagione, il GF riproporrà la formula «mista» con VIP e NIP sotto lo stesso tetto. Gli autori del Grande Fratello stanno viaggiando per l'Italia alla ricerca di potenziali concorrenti NIP da inserire nella casa, ma nel frattempo non escludono il ritorno di alcuni volti noti. Dejanira Marzano ha rivelato che Margherita Zanatta, che partecipò all'edizione del 2018, classificandosi terza, è stata contattata per un possibile ritorno. Nel 2016, la speaker radiofonica aveva escluso la possibilità di tornare nel GF, definendo la sua esperienza unica e irripetibile. Tuttavia, Alfonso Signorini potrebbe riuscire a farle cambiare idea. Sui social, i fan già sognano il ritorno di altri ex-geffini, come Gwendalina Tavassi. Lascia un commento alla fine del video e seguici per gli aggiornamenti. Grazie per essere stati con noi. A presto con un nuovo video. Ci vediamo al prossimo Gossip.